Geografia Fisica Siamo di stati, di confini Possiamo procedere? Posso dire una cosa Secondo me la cravatta resta davvero bene Grazie Si, la migliora molto In che senso mi migliora molto? Perché lei ha i lineamenti un po' Un po' che? Non sembra il classico professore, sembra più Capisce Senti, cerchiamo di capirci una volta per tutte C'è una gerarchia fra me e te Così andiamo d'accordo Cerchiamo di stabilire dei ruoli E di rispettarli Come ti ho definito io? Una pecorella smarrita che bruca nei pascoli dell'ignoranza Bene, e io chi sarei? Il pastore che mi ricondurrà all'ovile E tutti i pastori da che mondo è mondo che cosa hanno in dotazione? La mazza ferrata Quindi? La pecorella deve dire o meno cazzate Altrimenti rischia di farsi male Perfetto, quindi adesso basta con le cravate, basta con i lineamenti Basta soprattutto con le frasi a cazzo Possiamo cominciare? Sì Io avevo intenzione di chiederti delle capitali di alcuni stati Individuiamo per esempio un'area del mondo Va bene, scelgo io Vai Hai preso l'acqua Scelgo io Fermo Per esempio America centrale America centrale Ok? Ti dico uno stato e tu cerchi di indovini la capitale Ok Per esempio il Messico? Facile Città? Del Messico Bravissimo Guatemala? Città del Guatemala Sempre lì vicino Panama? Città di Panama Perfetto Cuba? Città di Cuba Manco per il cazzo Io lo sapevo Alla prima buca il Somaro Paff Non è che tutte le capitali si chiamano città di qualcosa Non sei un cazzo Io avevo intenzione di farti vedere gli stati sul mappamondo Di capire dove stanno Che ne so Ma Avevo intenzione di chiederti Giappone Giappone Lo ho visto l'altra volta qui Dove? Qua Qua sotto Sotto dove? Sotto qua Dalla parte mia o dalla parte tua? Dalla parte sua più che altro Qua sotto qua Qua